450 Vespisti che hanno risposto presente a Trinitapoli. Una partecipazione dai grandi numeri, quella per festeggiare il decennale della nascita del locale Vespa Club. Un appuntamento patrocinato dalla Regione Puglia, dalla provincia Bat, dal Cone Puglia, nonché dai comuni di Margherita di Savoia e di Trinitapoli, organizzato in collaborazione con le associazioni Trinitapoli in festa, volontari carabinieri, volontari Polizia Penitenziaria di Trani, Tautor e Croce Rossa. Un'adesione di massa che ha destato grande soddisfazione tra quanti con dedizione e sacrificio ne hanno organizzato ogni aspetto. I Vespisti provenienti di fatte da circa 37 paesi differenti. I partecipanti accolti dall'allegria e dall'animazione dell'artista Antonio D'Acosta a seguire la benedizione di Monsignor Giuseppe Pavone, soddisfatto il sindaco di Trinitapoli Emanuele Losapio. Il rombo dei motori delle numerose vespe ha così animato una bellissima mattinata per le strade della cittadina pugliese, sino all'ipogeo Madonna di Loreto e dopo la visita all'importante necropoli, il giro sulla via del mare, alla volta della montagna del sale e alla scoperta delle saline. Ad ogni partecipante uno zaino pieno di prodotti locali per tributarne la presenza, esaltando le bontà del territorio, oltre che le sue bellezze. Il secondo raduno nazionale dei Vespisti ha regalato così grandi emozioni e momenti di condivisione, crescita personale in sella, all'amata due ruote. Per l'occasione premiati il Vespa Club di Canale Monterano, quale gruppo proveniente da più lontano, oltre che corato per essere quello più numeroso. Il riconoscimento al pianziano Arcangelo Pellicani di Melfi, al più giovane Samuele Guerrieri di Melfi. Infine premiata la Vespa più antica, giunta da Rodi Garganico e datata 1947. Insomma, un raduno a Trinitapoli perfetto in ogni suo aspetto.